Il credito è da sempre uno dei temi caldi per chi fa impresa e soprattutto di questi tempi. La platea di coloro che guardano con preoccupata attenzione ai rapporti con gli istituti di credito si è estesa a tutti gli utenti, messi in difficoltà anche per la poca confidenza con procedure complesse e in particolare con definizioni che di certo non agevolano la comprensione. È il caso del cosiddetto bail-in, oggetto di un recente convegno. Le procedure in vigore da quest'anno per la risoluzione delle crisi bancarie stanno suscitando molti interrogativi fra i risparmiatori. Novità note con il termine bail-in, un salvataggio interno che chiama in causa chi detiene azioni e obbligazioni della banca e, solo in ultima battuta, i correntisti, ma per la parte eccedente i 100.000 euro di deposito. In pratica, rispetto al passato, non ci saranno più salvataggi con soldi pubblici. Di questo si è parlato nel corso di un convegno promosso da Artigian Fidi Vicenza in collaborazione con Artigian Cassa e BNL per conoscere come oggi si comporteranno le banche in modo da evitare quanto è accaduto nei mesi scorsi a quattro istituti italiani. Il fallimento. Un'eccezione, secondo il professor Zen del Dipartimento di Scienze Economiche dell'Università di Padova, a cui non si può aggiungere se puntuale è la vigilanza. Azione preventiva, non a caso, resa oggi molto più stringente. Eccolo al nostro microfono. La domanda ricorrente che tanti si fanno oggi, ma i miei soldi in banca sono al sicuro? Allora diciamo subito sì, i soldi in banca sono al sicuro. Perché dobbiamo pensare che il BNL non è l'ordinarietà, ma è la straordinarietà. Per cui non possiamo credere che oramai tutte le banche così facilmente possano fallire. L'esempio delle quattro banche che sono fallite e dall'altra parte è un'assoluta eccezione. Vogliamo spiegare in parole povere cos'è il bail-in? Il bail-in è una risoluzione della banca. Sostanzialmente è una quasi procedura di fallimento alla quale però si giunge dopo un iter abbastanza lungo. Questo significa pertanto che ci sono tutte le possibilità per recuperarla in maniera così precedentemente. Il bail-in di fatto è la partecipazione da parte di soggetti quali azionisti e obbligazionisti alle perdite della banca, secondo certe forme di gerarchia nella detenzione di azioni e nella detenzione di obbligazioni. Anche i correntisti? I correntisti, come è noto, fino a 100.000 euro sono sempre protetti. Poi c'è un tema dell'interesse pubblico, poi c'è un tema che non si deve creare allarme, poi c'è un tema che non si devono creare rischi di carattere sistemico, per cui sostanzialmente ci sono tutta una serie di salvaguardie che in qualche modo limitano fortemente il bail-in. Posto che è e sarà compito della magistratura accertare eventuali comportamenti non conformi alle norme, va detto che in Italia gli utenti delle banche pagano anche le conseguenze di un atteggiamento di soggezione che porta a non pretendere informazioni chiare e precise sulle condizioni praticate e comunque a monte di una scarsa cultura in materia finanziaria. Un handicap di cui parlano i risultati di un'indagine svolta in 17 paesi e che pongono l'Italia in grave ritardo sotto questo profilo. La situazione in cui si trovano oggi le banche, abbiamo chiesto dal professor Zen, può rendere ancora più problematico l'accesso al credito da parte delle imprese? Ma il rischio che ci sia una difficoltà di accesso al credito, legata alla circostanza tuttavia che aumentino i tassi di interesse sulle passività, nel senso che il risparmiatore rilevando o percependo di correre più rischi, chiede maggiori interessi sui depositi, automaticamente questo si scarica sugli interessi attivi che la banca chiede alle imprese e quindi sostanzialmente si creerebbe un processo pernicioso dal punto di vista del credito. Però in questo momento i tassi sono a zero e il problema non è tanto il bail-in, il problema è che l'economia non cresce e quindi nella sostanza se l'economia non cresce, il cavallo non beve, ancorché le banche magari siano anche disposte a dare credito, però non ci sono le condizioni obiettive per poterlo fare.